Controllo, qui squadra Delta. Il nostro veicolo è fuori uso e siamo a piedi. Che facciamo? Ricevuto, Delta. L'ascensore della stazione è fuori uso, quindi dovete accedere alla miniera dalla fabbrica. Continuate lungo questa strada. Affermativo. Andiamo. Junker del cavolo. Pezzo di merda. Puoi ripararlo? Erte può riparare proprio. Ha solo bisogno dei pezzi giusti. Cos'era? Controllo. Lì abbiamo degli abietti che luccicano. Ricevuto. Avevamo sentito parlare di abietti luminescenti. Forse a causa dell'esposizione diretta all'emulso. Attenti, sono estremamente pericolosi. Che vuol dire? Luminescenti. Significa che brillano al buio. Apri quella porta, dai! È bloccata. Falla aprire da Jack. Mmm, non funzionerebbe. Queste porte sono troppo spesse. Controllo qui, Delta. Siamo alla fabbrica, ma l'entrata è bloccata. Ricevuto, Delta. Mi spiace, ma non vedo altre opzioni sul mio schermo. Va bene. Faremo prima se ci dividiamo. Ok, Cole. Baird, andate di là. Noi andiamo a destra. Chiamateci alla radio se trovate un'entrata. Non so, amico. Non mi sembra una buona idea. Grazie per l'avviso, Gus. Ora muoviamoci. Sì, signore! Dai, Cole. Muoviamoci. Cavolo, Marcus. Mi passerà. Hai visto? Già, io sì. Ma vorrei non averlo fatto. Grazie per l'avviso. Sì. 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 Lo sai che sono anni che nessuno scende laggiù, vero? Lo so. Senti, siamo in territorio nemico. Già è un inferno combattere contro queste cose all'esterno, alla luce del giorno. Ma sottoterra, al buio... Sì. Potrebbe essere un casino. Ma non dirlo a vera. Si caga sotto dalla paura. Beh, Cole, siamo entrati. Perché ci avete messo tanto? Siamo qua da oltre due minuti. Buon per te, furbone. Dateci la vostra posizione. Semi-interrato. Ed è una fogna. Controllo, qui Delta. Siamo entrati. Ricevuto. Attraversate la fabbrica fino alla sala controllo dei carrelli. Li userete per arrivare alla miniera. Delta, non perdiamo tempo a riunirci. Pensiamo a trovare la sala controllo. Occhio all'Uomo Nero. Penso a far tornare la corrente. Delta 1, chiudo. Locat, è troppo spesso per tagliarla. Dei, sul richiamo. Imposta. Dammat. Cosa si è cercata. Se c'è qui? Sì. Questa non va a riuscola. La peguata. Questa è la palla. Questa commenta. Questa è la distanza. Questa è la protesta. Questa è la trota. No, no, no. Ehi, pensa che ce l'ho fatta. Sì, Beard, ce l'hai fatta. Spegnile, ok? Eh? Che? Lascia stare. Cessate il fuoco! Testa di cazzo. Era ora. I soccorsi. Che ci fai qui? Vi aspettavo. Andiamocene! Stiamo cercando la sala controllo dei carrelli. Dov'è? Beh, dovete scendere alla fabbrica da quella porta, ma è bloccata. Perché non ci aiuti ad aprirla? Chi? Io? Non ce ne andiamo? Non ancora. E dai. Qui Delta 1. La missione procede come previsto. Ma abbiamo un arenato con noi. Non mi dire. Chiedigli se ha visto dei Geobot. Me ne serve uno per lo Juncker. Ehi, Beard! Continua a cercare la sala controllo dei carrelli. Phoenix, chiudo. Delta 2, rispondi. Occhio alle presenarie. Ricevuto. Non ci crederete dove siamo. Controllo. Potete darci la posizione di Delta 2? La lettura della posizione è qui. Sembrano... Le fogne? C'è merda dappertutto! Dai, Beard! Un po' di quella roba lì ti fa bene. Rafforza il sistema immunitario. Sì, però, ti fa anche ammalare di brutto. Delta 2, chiudo. Non crederci. Devo non stare uno schifo. Ciao, ragazzi. Puzzate da far schifo. Anculo, amico. Vieni qua e vediamo se ti piace. C'è ancora spazio. Stiamo facendo una festa qua giù. No, grazie. Muoviamoci. Ci vediamo alla sala dei carrelli. All'interno. 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 Non possiamo andarcene? No. Abbiamo del lavoro da sbrigare. Prego, se restiamo qui, quelli ci ammazzano! Rilassati, eh? Rilassati tu, voi Ghirsvate schifo! Sporchi esaltati sanguinari! Riusciamo a passare di qua? Sarò l'opposto! Merda, è morto! Merda! Ah! 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 Ah A presto. Andranno bene. 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 E' bene. Andranno 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 bene. Andranno. Andranno. Andranno bene. 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 Andranno. Andranno bene. 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 Andranno. Andranno bene. 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 Andranno. Andranno bene. 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 Andranno, Andranno bene. Andranno bene.